In tempi di quarantena da coronavirus dobbiamo attrezzarci come possiamo. Continuiamo a spedirvi i pacchetti in completa sicurezza, invocandoli nella cassetta delle lettere. A tutti voi che magari in questo momento state vivendo con un genitore con gravi disturbi psichici in casa e non avete la possibilità di sostenere Comic con una donazione, fino al 3 aprile scrivendoci un'email a info.comicitalia.org potete richiedere una copia gratuita della mini vita alla sopravvivenza per finire i genitori con un disturbo mentale, il nostro modo per starvi vicino. Un abbraccio grandissimo e fortissimo a distanza a tutti voi. Forza, ce la possiamo fare!